ciao a tutti oggi altro consulto interattivo dove andiamo a rispondere ad una domanda molto interessante che mi fate spesso ovvero cosa prova per me quindi andremo a vedere cosa lei o lui provano per noi ho scelto due cuori potete scegliere anche voi il cuore in quarzo rosa oppure il cuore bianco in selenite andiamo prima a vedere il cuore in quarzo rosa ho scelto prima una carta adesso andremo a vedere le altre benissimo quindi abbiamo subito un cavaliere di denari che ci sta a dire che comunque questa persona è una persona che porta qualcosa di serio quindi le intenzioni sono sicuramente ottime perché è una persona che va a offrire un qualcosa di concreto no quindi in qualcosa di solito e sicuramente non è diciamo mercenario vediamo cosa ci dicono i tarocchi degli angeli quindi per andare a arricchire questo messaggio 9 di emozione sicuramente con questa persona stai vivendo un momento particolare e ti sta questa esperienza ti sta arricchendo sia che la storia sia già partita sia che la storia non sia ancora partita ma comunque è come se l'un l'altro vi arricchiste quindi in questo momento c'è grande potenzialità c'è grande possibilità di costruire il momento diciamo sembra quasi magico no perché è come se questa fosse una relazione in qualche modo fortunata che ci sta portando un qualcosa di nuovo che va sicuramente a come dire a premiarci per un qualcosa che abbiamo vissuto nel passato è come se fossimo finalmente premiati come se questa persona arrivasse un po dal cielo ripeto sia che la relazione sia già partita sia che sia in una fase di conoscenza anche perché il cavaliere della prima carta ci dice che un qualcosa in movimento no non è un qualcosa che è fermo fisso certo questa persona arriva in modo come dire modo molto concreto nella nostra vita però allo stesso tempo è un qualcosa di giocoso che ci sta veramente portando un giovamento anche all'anima allo spirito quindi ci sta sicuramente arricchendo bisogna un po iniziare anche a lasciarsi andare perché probabilmente chi ha scelto questo cuore ha avuto delle ferite nel passato e quindi bisogna un po sbloccarsi e per far questo si può anche chiedere l'aiuto delle persone che ci sono accanto degli amici cioè farci supportare degli altri sicuramente chi ha vissuto che sta avendo questo tipo di relazione ha accanto delle persone che o hanno come dire contribuito no finché questo incontro ci fosse oppure che possono avere un ruolo all'interno della relazione vediamo anche cosa ci dicono i tarocchi delle fate in merito a questa relazione quindi se la domanda è lui ci mi ama lei mi ama sicuramente i pensieri sono ottimi c'è una gran voglia di creare un qualcosa di concreto questa questa conoscenza avviene quasi come se fosse un dono del cielo c'è un ruolo da parte degli amici persone comunque vicine potrebbero essere anche parenti cugini comunque persone vicine che possono avere un ruolo in questa relazione e sicuramente quello che emerge in questo tipo di relazione non è sicuramente il dramma ma diciamo un po la giocosità come dicevamo la spensieratezza ribadisce la calle agli angeli ce le fate ribadiscono quello che dicevano gli angeli quindi di chiedere aiuto agli altri quindi di farci appoggiare agli altri e comunque anche di essere grati per quello che ci sta capitando perché perché comunque perché è un qualcosa che ci dà felicità pace cira serena e ci porta un appagamento nella vita personale quindi dal suo lato e dal vostro lato c'è questa sensazione sicuramente i sentimenti sono molto positivi ma allo stesso tempo c'è la luna no quindi che viene in concomitanza con perdone impara quindi la luna ci dice è tutto molto bello una sensazione nuova però allo stesso tempo io sono una persona molto concreta lui o lei siamo sono una persona molto concreta quindi ci voglio andare tra virgolette con i piedi di piombo perché perché magari in passato ho avuto delle esperienze che mi hanno un po un po come dire un po turbato e quindi voglio in questo caso andarci calmo o cauta vediamo un po invece cosa ci vanno a dire le sirene di questa cosa sicuramente il messaggio è molto positivo quindi una persona molto interessata che ha dei sentimenti sinceri e veri che allo stesso tempo ha un vissuto e quindi nonostante ci sia anche sostegno da parte persone vicine vuole un po andarci cauta vediamo il messaggio l'amicizia anche qui sicuramente dicevamo hanno a che fare gli amici le persone attorno ma un'altra un'altra cosa che mi viene da suggerirvi secondo queste carte quella di cercare di organizzare dei momenti di svago per stare insieme per condividere delle cose perché queste possono portare a crescere la relazione e allo stesso tempo possono portare ad un solidificarsi a un potenziamento quindi avere anche più sicurezza di quello che si sta vivendo di quello che la persona sta vivendo quindi se avete modo di organizzare con lei o con lui un momento anche una giornata fuori tranquilli insieme per divertirvi questo andrà a crescere molto la relazione trascorrere poi dopo aver fatto questo è molto è bene allontanarsi un attimo quindi prendersi un po di tempo per come dire riuscire a capire tutto quello che si è vissuto questa cosa vale anche per chi è già in relazione nel senso che nel caso in cui sia una relazione nuova andare con i piedi di piombo significano aver paura del nuovo ma se già state vivendo una relazione questo può voler dire che siete in una fase di passaggio dove bisogna magari decidere di fare una cosa piuttosto che l'altra ci sono dei sentimenti c'è voglia di fare sul serio quindi è tutto molto concreto però allo stesso tempo c'è un po di paura quindi vivere e come dire rivivere le cose in spensieratezza lasciarsi andare vivere le cose come se fosse fosse diciamo al primo in uno dei primi incontri sicuramente può aiutare per capire qual è la cosa giusta da fare vorrei prendere ancora una carta degli arcangeli per consiglio avere un consiglio da parte degli arcangeli su questa situazione sai cosa fare quindi fidarci della propria del nostro intuito di quello che noi pensiamo perché sicuramente sicuramente questa è una è un sentimento che arriva da parte di questa persona un sentimento pulito puro non architettato e quindi è come dire scorre se lo lasciamo scorrere avremo sicuramente la situazione che desideriamo e anche le risposte su come comportarci questo invece è quello che ci dicono ci dicono gli unicorni cioè gli unicorni ci dicono che tutto quanto ha un ciclo quindi se le cose facciamole andare avanti sia che sia questa carta mi parla anche tanto di una relazione che è già iniziata no quindi tutto quanto ha un ciclo le cose scorrono hanno devono fare il loro loro come dire seguire il loro la loro serie di eventi facciamo andare le cose come devono andare perché vanno nella direzione giusta perché siamo come dire siamo siamo nella strada giusta siamo sul giusto sentiero quindi non dobbiamo assolutamente avere paura dobbiamo assolutamente fidarci sentimenti positivi come dire il messaggio delle carte assolutamente positivo e i sentimenti ci sono quindi questo è il mazzetto del del quarzo rosa però voglio ancora darvi tre segni perché vediamo se questa cosa dice qualcosa per voi magari riuscite a collegare il messaggio allora i segni che vi do sono cancro capricorno e gemelli vedete se questo questo ha commesso messaggio risuono in voi passiamo poi a il secondo cuore il secondo cuore e quello bianco in selenite per chi l'ha scelto vediamo il messaggio qui abbiamo un messaggio un pochino più come dire impegnativo nel senso che abbiamo il nove di spade il nove di sto prima quindi che cosa prova lui e lei per me beh sicuramente ci ci sono dei pensieri ci sono come dire c'è un po di preoccupazione no la carta dei di chi si sveglia in piena notte perché appunto a questi pensieri che lo tengono sveglio andiamo a vedere che cosa prova lui o lei per me è uscita questa ok è in effetti questa carta il 2 di abbondanza ci sta dicendo che sembra che comunque manchi un po di equilibrio in questo momento della vita infatti c'è no l'ansia e l'agitazione noi ci troviamo in una situazione dove facciamo un po difficoltà a dormire no quindi dobbiamo cercare però di rimanere ci dicono queste carte questa persona sta passando un momento di come dire di pensieri di ansia di preoccupazione nel senso che probabilmente non sa che cosa fare no e quindi non sapendo che cosa fare è un po preoccupata però dobbiamo lasciare andare le cose perché perché comunque dobbiamo cercare di recuperare un po di leggerezza diciamo che questa preoccupazione da parte di questa persona è che questa relazione sembrava c'è questo questa persona voi nel caso no quindi con i sentimenti suoi di lui di lei per voi pensavano di essere sulla strada giusta che fosse che voi fosse la persona giusta ma in questo momento sta come dire cercando di capire se realmente così questo perché non perché abbia avuto un ripensamento ma perché vuole capire se sta effettivamente facendo la scelta giusta quindi sta cercando un po delle risposte dentro di sé perché andiamo a vedere anche il perché non sta cercando queste queste risposte dentro di sé vediamo un attimo con gli angeli del cuore vediamo perché questa persona sta cercando queste risposte allora perché quello che vuole effettivamente in questo momento è cercare di creare una situazione positiva armoniosa non vuole molto probabilmente fare degli errori quindi scegliere la relazione sbagliata perché ha effettivamente voglia di una relazione serena però allo stesso tempo non vuole cioè che questa cosa sia solo una piccuna storiella ok quindi questo può voler dire questo e può anche voler dire che in realtà questa persona sta vivendo questa situazione un po con leggerezza perché vuole prima capire se effettivamente la relazione è quella giusta ovviamente questi sono è un consulto generico ed è per tutti quindi bisognerebbe fare un consulto questo questo consulto non sostituisce un consulto privato personale dove andiamo a lavorare con la nostra data di nascita il nostro nome qui diciamo il testimone energetico però queste carte possono dire entrambe le cose voi cercate di capire che cosa di quali di questi messaggi che vi sto dando risuonano più in voi ovviamente se l'avete scelto energeticamente un motivo sicuramente c'è se avete scelto il cuore in selenite bianco quindi vediamo anche che cosa ci dicono poi le sirene semplifica la vita allora ecco quindi i sentimenti tutto questo sta succedendo perché perché questa persona sta cercando la persona giusta e vuole una vita semplice cioè non vuole vivere relazioni contrastate questo è anche positivo no nel senso che è importante capire che questa e questa è o meno la persona giusta e questa persona sta facendo questo verso di voi quindi vuole capire se voi siete la persona giusta perché perché non vuole sofferenza non vuole soffrire ma non vuole nemmeno generare sofferenza e quindi questo studio è come se lui o lei stessero studiando la situazione vi stessero anche un po studiando so che non è bello essere messi un po sotto come dire sotto esame però alla fine ogni volta che abbiamo abbiamo una relazione siamo sempre un po no sotto esame soprattutto all'inizio ma non solo gli unicorni dicono di cosa interessante di lavorare con l'immaginazione e ci dicono anche che molto probabilmente questo è un rapporto carmico quindi un rapporto che vi portate dietro del passato è stato un rapporto vissuto nel passato con grande passione grande ardore e anche un po di impulsività quindi come dire per in questa vita non fare gli errori fatti in passato c'è bisogno di lavorare diversamente quindi mentre nella vita precedente c'è stato un incontro tra di voi dove avete vissuto con grande impulso e quindi con grande come dire trasporto e impulsività la relazione questa volta l'altra persona vuole gestire le cose con con più cautela vediamo ecco qua fai pulizia dice Jofiel quindi bisogna per riuscire a risolvere questa situazione lui o lei devono fare un po di pulizia devono fare un po di ordine perché ricordiamoci che c'erano delle preoccupazioni quindi dei pensieri quanti pensieri ti tengono sveglio vuol dire che c'è qualche preoccupazione in effetti no quindi qualcosa che non torna e allora per riuscire a risolvere effettivamente la situazione mentre nella stesa precedente abbiamo visto che c'era bisogno di passare del tempo insieme qua invece c'è bisogno di prendersi il tempo per riordinare capire che cosa fare visto che stiamo vivendo comunque in questa stesa una situazione una relazione per nulla negativa ma comunque più complicata dove abbiamo vediamo che c'è anche uno strascico carmico no delle vite passate voglio anche vedere che cosa mi dicono le carte dell'angel therapy quindi un consiglio per questo questo punto per voi per vivere al meglio questa tipo di relazione e quindi i suoi sentimenti che sono sentimenti che effettivamente ci sono ma sono in questo momento un po confusi e stanno cercando di dichiarirsi vediamo quale invece un consiglio per voi che avete scelto il cuore in serenite bianca ragazzi ci dicono di nuovo che si tratta di una fiamma gemella quindi vita passata la risposta alla domanda riguardo una relazione sentimentale basata sulla spiritualità questo vuol dire che se vi siete incontrati nella vita passata in questa vita sicuramente c'è un qualcosa di spirituale perché vi ha tenuto legati dal punto di vista carmico quindi bisogna far sì che le cose seguano il corso che devono seguire e che ciascuno di voi sia nella come dire nella possibilità di fare quello che devono fare perché si devono risolvere dei nodi carmici dal tuo punto di vista che dal punto di vista tuo che hai scelto questo cuore di serenite bianco chiedi agli angeli di essere indirizzata di essere guidata in essere guidato in questa situazione perché sicuramente hai bisogno di conforto c'è bisogno di essere sostenuto in questo in questo rapporto perché devi anche tu come dire mentre l'altra persona segue le sue cioè segue i suoi pensieri cerca di risolvere questa cosa anche tu devi poter vivere bene questo tipo di rapporto quindi invoca i tuoi angeli perché gli angeli non vedono mai cioè non vedono l'ora di essere invocati certo è che se noi invochiamo loro non possono fare nulla quindi questa è sicuramente una lettura bellissima di persone che si sono già incontrate in una vita passata che devono risolvere delle questioni in questa vita sarebbe bello fare una lettura cascica su questa situazione poi comunque se vuoi farla mi scrivi e qua vi do a voi che avete scelto a te che hai scelto questo cuore do tre segni e vediamo se in qualche modo questi tre segni ti dicono qualcosa nel senso possono avere a che fare qualcosa in questa lettura potrebbero essere le persone in questione ma potrebbero essere anche persone che influiscono no in questo in questa situazione che hanno questo segno se tiriamo fuori tre segni che sono toro pesci e capricorno ecco qua quindi questo è il consulto per chi ha scelto il mazzetto il mazzetto del cuore in selenite bianca questo è tutto spero che questo messaggio possa risuonare in voi se volete un consulto approfondito mi potete contattare ai link che trovate qui sotto oppure sul mio sito internet dove trovate anche il link per scrivermi su whatsapp ciao a tutti a presto